capitolo sesto dialogo e amicizia sociale avvicinarsi esprimersi ascoltarsi guardarsi conoscersi provare a comprendersi cercare punti di contatto tutto questo si riassume nel verbo dialogare per incontrarci aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare non c'è bisogno di dire a che serve il dialogo mi basta pensare che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e conflitti eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio molto più di quanto possiamo rendercene conto alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri l'affrontano con violenza distruttiva ma tra l'indifferenza egoistica e la protesta violenta c'è un'opzione sempre possibile il dialogo il dialogo tra le generazioni il dialogo nel popolo perché tutti siamo popolo la capacità di dare e ricevere rimanendo aperti alla verità un paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali la cultura popolare la cultura universitaria la cultura giovanile la cultura artistica e la cultura tecnologica la cultura economica la cultura della famiglia e la cultura dei media spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso un febbrile scambio di opinioni nelle reti sociali molte volte orientato da un'informazione mediatica non sempre affidabile sono solo monologhi che procedono paralleli forse imponendosi all'attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi ma i monologhi non impegnano nessuno a tal punto che i loro contenuti non di rado sono opportunistici e contraddittori la risonante diffusione di fatti e richiami nei media in realtà chiude spesso le possibilità del dialogo perché permette che ciascuno con la scusa degli errori altrui mantenga intatti e senza sfumature le idee gli interessi e le scelte propri predomina l'abitudine di screditare rapidamente l'avversario attribuendo gli epiteti umilianti invece di affrontare un dialogo aperto e rispettoso in cui si cerchi di raggiungere una sintesi che vada oltre il peggio è che questo linguaggio consueto nel contesto mediatico di una campagna politica sia talmente generalizzato che lo usano quotidianamente tutti il dibattito molte volte è manipolato da determinati interessi che hanno maggiore potere e cercano in maniera disonesta di piegare l'opinione pubblica a loro favore non mi riferisco soltanto al governo di turno perché tale potere manipolatore può essere economico, politico, mediatico, religioso o di qualsiasi genere a volte lo si giustifica o lo si scusa quando la sua dinamica corrisponde ai propri interessi economici o ideologici ma prima o poi si ritorce contro questi stessi interessi la mancanza di dialogo comporta che nessuno nei singoli settori si preoccupa del bene comune bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura o nel migliore dei casi di imporre il proprio modo di pensare così i colloqui si ridurranno a mere trattative affinché ciascuno possa accaparrarsi di tutto il potere e i maggiori vantaggi possibili senza una ricerca congiunta che generi bene comune gli eroi del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità al di là degli interessi personali dio voglia che questi eroi stiano silenziosamente venendo alla luce nel cuore della nostra società l'autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell'altro accettando la possibilità che contenga delle convenzioni o degli interessi legittimi a partire dalla sua identità l'altro ha qualcosa da dare ed è auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito pubblico sia ancora più completo è vero che quando una persona o un gruppo è coerente con quello che pensa aderisce saldamente a valori e convenzioni e sviluppa un pensiero ciò in un modo o nell'altro andrà a beneficio della società ma questo avviene effettivamente solo nella misura in cui tale sviluppo si realizza nel dialogo e nell'apertura agli altri infatti in un vero spirito di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che l'altro dice e fa pur non potendo assumerlo come una propria convenzione così diventa possibile essere sinceri non dissimulare ciò in cui crediamo senza smettere di dialogare di cercare punti di contatto e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme la discussione politica se veramente dà spazio a tutti e non manipola né nasconde l'informazione è uno stimolo costante che permette di raggiungere più adeguatamente la verità o almeno di esprimerla meglio impedisce che i vari settori si posizionino comodi e autosufficienti nel loro modo di vedere le cose e nei loro interessi limitati pensiamo che le differenze sono creative creano tensione e nella risoluzione di una tensione consiste il progresso dell'umanità oggi esiste la convinzione che oltre agli sviluppi scientifici specializzati occorre la comunicazione tra discipline dal momento che la realtà è una benché possa essere accostata da diverse prospettive e con differenti metodologie non va trascurato il rischio che un progresso scientifico venga considerato l'unico approccio possibile per comprendere un aspetto della vita della società e del mondo invece è un ricercatore che avanza fruttuosamente nella sua analisi ed è anche disposto a riconoscere altre dimensioni della realtà che indaga grazie al lavoro di altre scienze e altri saperi si apre a conoscere la realtà in maniera più integra e piena in questo mondo globalizzato i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni degli altri a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all'impegno serio per una vita più dignitosa possono aiutarci in questo particolarmente oggi quando le reti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi in particolare internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti e questa è una cosa buona è un dono di Dio è però necessario verificare continuamente che le attuali forme di comunicazione ci orientino effettivamente all'incontro generoso alla ricerca sincera della verità piena al servizio alla vicinanza con gli ultimi all'impegno di costruire il bene comune nello stesso tempo come hanno indicato i vescovi dell'Australia non possiamo accettare un mondo digitale progettato per sfruttare la nostra debolezza e tirare fuori il peggio dalla gente il relativismo non è la soluzione sotto il velo di una presunta tolleranza finisce per favorire il fatto che i valori morali siano interpretati dai potenti secondo le convenienze del momento se in definitiva non ci sono verità oggettive nei principi stabili al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni o delle necessità immediate non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare è possibile prestare attenzione alla verità cercare la verità che risponde alla nostra realtà più profonda che cos'è la legge senza la convinzione raggiunta attraverso un lungo cammino di riflessione e di sapienza che ogni essere umano è sacro e inviolabile affinché una società abbia futuro è necessario che abbia maturato un sentito rispetto verso la verità della dignità umana alla quale ci sottomettiamo allora non ci si asterrà dall'uccidere qualcuno solo per evitare il disprezzo sociale e il peso della legge bensì per convinzione è una verità irrinunciabile che riconosciamo con la ragione e accettiamo con la coscienza una società è nobile e rispettabile anche perché coltiva la ricerca della verità e per il suo attaccamento alle verità fondamentali occorre esercitarsi a smascherare le varie modalità di manipolazione deformazione e occultamento della verità negli ambiti pubblici e privati ciò che chiamiamo verità non è solo la comunicazione di fatti operata dal giornalismo è anzitutto la ricerca dei fondamenti più solidi che stanno alla base delle nostre scelte e delle nostre leggi questo implica accettare che l'intelligenza umana può andare oltre le convenienze del momento e cogliere alcune verità che non mutano che erano verità prima di noi e lo saranno sempre indagando sulla natura umana la ragione scopre valori che sono universali perché da essa derivano diversamente non potrebbe forse succedere che i diritti umani fondamentali oggi considerati insormontabili vengano negati dai potenti di turno dopo aver ottenuto il consenso di una popolazione addormentata e impaurita e nemmeno sarebbe sufficiente un mero consenso tra i vari popoli ugualmente manipolabile già abbiamo in abbondanza prove di tutto il bene che siamo capaci di compiere però al tempo stesso dobbiamo riconoscere la capacità di distruzione che c'è in noi l'individualismo indifferente e spietato in cui siamo caduti non è anche il risultato della picrizia nel ricercare i valori più alti che vadano al di là dei bisogni momentanei a relativismo si somma il rischio che il potente o il più abile riesca a imporre una presunta verità invece di fronte alle norme morali che proibiscono il male intrinseco non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno essere il padrone del mondo o l'ultimo miserabile sulla faccia della terra non fa alcuna differenza davanti alle esigenze morali siamo tutti assolutamente uguali quello che oggi ci accade trascinandoci in una logica perversa e vuota è che si verifica un'assimilazione dell'etica e della politica alla fisica non esistono il bene e il male in sé ma solamente un calcolo di vantaggi e svantaggi lo spostamento della ragione morale ha per conseguenza che il diritto non può riferirsi a una concezione fondamentale di giustizia ma piuttosto diventa uno specchio delle idee dominanti entriamo qui in una degenerazione un andare livellando verso il basso mediante un consenso superficiale e compromissorio così in definitiva la logica della forza trionfa in una società pluralista il dialogo è la via più adatta per arrivare a riconoscere ciò che deve essere sempre affermato e rispettato e che va oltre al consenso occasionale parliamo di un dialogo che esige di essere arricchito e illuminato da ragioni da argomenti razionali da varietà di prospettiva da apporti di diversi saperi e punti di vista e che non esclude la convinzione che è possibile giungere ad alcune verità fondamentali che devono e dovranno sempre essere sostenute accettare che ci sono alcuni valori permanenti benché non sia sempre facile riconoscerli conferisce solidarietà e stabilità a un'etica sociale anche quando li abbiamo riconosciuti e assunti grazie al dialogo e al consenso vediamo che tali valori di base vanno al di là di ogni consenso li riconosciamo come valori che trascendono i nostri contesti e mai negoziabili potrà crescere la nostra comprensione del loro significato e della loro importanza in questo senso il consenso è una realtà dinamica ma in se stessi sono apprezzati come stabili per il loro significato intrinseco se una certa cosa rimane sempre conveniente per il buon funzionamento della società non è forse perché dietro ad essa c'è una verità perenne che l'intelligenza può cogliere nella realtà stessa dell'essere umano e della società nella loro natura intima vi è una serie di strutture di base che sostengono il loro sviluppo e la loro sopravvivenza da lì derivano determinate esigenze che si possono scoprire grazie al dialogo anche se non sono costruite in senso stretto dal consenso il fatto che certe norme siano indispensabili per la vita sociale stessa è un indizio esterno di come esse siano qualcosa di intrinsecamente buono di conseguenza non è necessario contrapporre la convenienza sociale il consenso e la realtà di una verità obiettiva tutte e tre possono unirsi armoniosamente quando attraverso il dialogo le persone hanno il coraggio di andare fino in fondo a una questione se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri è perché noi non inventiamo o supponiamo tale dignità ma perché c'è effettivamente in essi un valore superiore rispetto alle cose materiali e alle circostanze che esige siano trattati in un altro modo che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile è una verità corrispondente alla natura umana al di là di qualsiasi cambiamento culturale perciò l'essere umano possiede la medesima dignità inviolabile in qualunque epoca storica e nessuno può sentirsi autorizzato dalle circostanze a negare questa convinzione o a non agire di conseguenza l'intelligenza può dunque scrutare nella realtà delle cose attraverso la riflessione, l'esperienza e il dialogo per riconoscere in tale realtà che la trascende la base di certe esigenze morali universali agli agnostici questo fondamento potrà sembrare sufficiente per conferire una salda e stabile validità universale ai principi etici basilari e non negoziabili così da poter impedire nuove catastrofi per i credenti la natura umana, fonte di principi etici è stata creata da Dio, il quale in ultima istanza conferisce un fondamento solido a tali principi ciò non stabilisce un fissismo etico né apre la strada all'imposizione di alcun sistema morale dal momento che i principi morali fondamentali e universalmente validi possono dar luogo a diverse normative pratiche perciò rimane sempre uno spazio per il dialogo la vita è l'arte dell'incontro anche se tanti scontri ci sono nella vita tante volte ho invitato a far crescere una cultura dell'incontro che vada oltre le dialettiche che mettono l'uno contro l'altro è uno stile di vita che tende a formare quel poliedro che ha molte facce, moltissimi lati ma tutti compongono un'unità ricca di sfumature perché il tutto è superiore alla parte il poliedro rappresenta una società in cui le differenze convivono integrandosi arricchendosi e illuminandosi a vicenda benché ciò comporti discussioni e diffidenze da tutti infatti si può imparare qualcosa nessuno è inutile nessuno è superfluo ciò implica includere le periferie chi vive in esse ha un altro punto di vista vede aspetti della realtà che non si riconoscono dai centri di potere dove si prendono le decisioni più determinanti la parola cultura indica qualcosa che è penetrato nel popolo nelle sue convinzioni più profonde e nel suo stile di vita se parliamo di una cultura nel popolo ciò è più di un'idea o di un'astrazione comprende i desideri, l'entusiasmo e in definitiva un modo di vivere che caratterizza quel gruppo umano dunque parlare di cultura nell'incontro significa che come popolo ci appassiona il volerci incontrare il cercare punti di contatto gettare ponti progettare qualcosa che coinvolga tutti questo è diventato un'aspirazione in uno stile di vita il soggetto di tale cultura è il popolo non un settore della società che mira a tenere in pace il resto con mezzi professionali e mediatici la pace sociale è laboriosa, artigianale sarebbe più facile contenere le libertà e le differenze con un po' di astuzie e di risorse ma questa pace sarebbe superficiale e fragile non il frutto di una cultura dell'incontro che la sostenga integrare le realtà diverse è molto più difficile e lento eppure è la garanzia di una pace reale e solida ciò non si ottiene mettendo insieme solo i puri perché persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto e nemmeno consiste in una pace che nasce mettendo a tacere le rivendicazioni sociali o evitando che facciano troppo rumore perché non è un consenso a tavolino o un'effimera pace per una minoranza felice quello che conta è avviare processi di incontro processi che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze armiamo i nostri figli con le armi del dialogo insegniamo loro la buona battaglia dell'incontro questo implica la capacità abituale di riconoscere all'altro il diritto di essere se stesso e di essere diverso a partire da tale riconoscimento fattosi cultura si rende possibile dar vita a un patto sociale senza questo riconoscimento emergono modi sottili di far sì che l'altro perda ogni significato che diventi irrilevante che non gli si riconosca alcun valore nella società dietro al rifiuto di certe forme visibili di violenza spesso si nasconde un'altra violenza più subdola quella di coloro che disprezzano il diverso soprattutto quando le sue rivendicazioni danneggiano in qualche modo i loro interessi quando una parte della società pretende di godere di tutto ciò che il mondo offre come se i poveri non esistessero questo a un certo punto ha le sue conseguenze ignorare l'esistenza e i diritti degli altri prima o poi provoca qualche forma di violenza molte volte inaspettata i sogni della libertà dell'eguaglianza e della fraternità possono restare al livello delle mere formalità perché non sono effettivamente per tutti pertanto non si tratta solamente di cercare un incontro tra coloro che detengono varie forme di potere economico politico o accademico un incontro sociale reale pone in un vero dialogo le grandi forme culturali che rappresentano la maggioranza della popolazione spesso le buone proposte non sono fatte proprie dai settori più impoveriti perché si presentano con una veste culturale che non è la loro e con la quale non possono sentirsi identificati di conseguenza un patto sociale realistico e inclusivo deve essere anche un patto culturale che rispetti e assuma le diverse visioni del mondo le culture e gli stili di vita che coesistono nella società per esempio i popoli originari non sono contro il progresso anche se hanno un'idea di progresso diversa molte volte più umanistica di quella della cultura moderna dei popoli sviluppati non è una cultura orientata al vantaggio di quanti hanno potere di quanti hanno bisogno di creare una specie di paradiso sulla terra l'intoleranza e il disprezzo nei confronti delle culture popolari indigene è una vera forma di violenza propria degli eticisti senza bontà che vivono giudicando gli altri ma nessun cambiamento autentico profondo e stabile è possibile se non si realizza a partire dalle diverse culture principalmente dei poveri un patto culturale presuppone che si rinuncia a intendere l'identità di un luogo in modo monolitico ed esige che si rispetti la diversità offrendo le vie di promozione e di integrazione sociale questo patto richiede anche di accettare la possibilità di cedere qualcosa per il bene comune nessuno potrà possedere tutta la verità né soddisfare la totalità dei propri desideri perché questa pretesa porterebbe a voler distruggere l'altro negando i suoi diritti la ricerca di una falsa tolleranza deve cedere il passo al realismo dialogante di chi crede di dover essere fedele ai propri principi riconoscendo tuttavia che anche l'altro ha il diritto di provare ad essere fedele ai suoi è il vero riconoscimento dell'altro che solo l'amore rende possibile e che significa mettersi al posto dell'altro per scoprire che cosa c'è di autentico o almeno di comprensibile tra le sue motivazioni e i suoi interessi l'individualismo consumista provoca molti soprusi gli altri diventano meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità dunque si finisce per trattarli come fastidi e l'aggressività aumenta ciò si accentua e arriva a livelli esasperanti nei periodi di crisi in situazioni catastrofiche in momenti difficili quando emerge lo spirito del si salvi chi può tuttavia è ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all'oscurità san paolo menzionava un frutto dello spirito santo con la parola greca krestotes che esprime uno stato d'animo non aspro rude duro ma benigno soave che sostiene e conforta la persona che possiede questa qualità aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile soprattutto quando portano il peso dei loro problemi delle urgenze e delle angosce è un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme come gentilezza nel tratto come attenzione a non ferire con le parole o i gesti come tentativo di allevare il peso degli altri comprende il dire parole di incoraggiamento che confortano che danno forza che consolano che stimolano invece di parole che umiliano che rattristano che irritano che disprezzano la gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto ad essere felici oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri a dire permesso scusa grazie eppure ogni tanto si presenta al miracolo di una persona gentile che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione per regalare un sorriso per dire una parola di stimolo per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza questo sforzo vissuto ogni giorno è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti la pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese dal momento che presuppone stima e rispetto quando si fa cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita i rapporti sociali il modo di dibattere e di confrontare le idee facilita la ricerca di consensi e apre strade laddove l'esasperazione distrugge tutti i ponti grazie a tutti